Ciao a tutti ragazzi da TFG On The Band Finalmente l'ordine si sta ristabilendo E stai vincendo i bauli Quindi avete il bule magico Ora però aspetta guarda Vai nel clan un attimo Perché è iniziata la sfida Quella del clan Quindi bisogna fare 200 corone Per avere il baule di livello 2 Cos'è questo? Questo è già a livello 2 Bisogna portare a livello 3 Ah bisogna portare a livello 3 E come ricompensa hai 630 No quella di adesso hai 390 di oro 65 carte e 6 rare Quindi adesso ragazzi bisogna giocare A manetta E fare un sacco Corona all'infinito Esatto adesso quindi tu apri il bule magico Subite in bomba così Ti so se vinci anche tu magari il bule magico E poi vinci il super magico come ho fatto io Ma sarebbe giusto Magari lo vinci adesso qui Ma mi piace perché quando torno indietro Perché sai che a me piace cazzeggiare Sì vai in un'arena 2 tipo Eh infatti il mio obiettivo è arrivare in un'arena 2 Vai su Mi obiettivo è arrivare in un'arena 1 Quanto hai il gigante? Mi stai chiedendo il gigante tipo Eh mi manca ancora Attenzione epica 2 Vabbè ma hai chiesto l'epica? Sai che adesso di domenica si possono chiedere l'epica Allora io la prima volta ho chiesto sempre il gigante Perché non mi ero d'accordo che ho fatto chiedere l'epica E dopo hai visto Ma che cazzo chiedono un golem? Perché mi hanno chiesto un golem? Io invece avevo chiesto Il barile Che peraltro ho donato Io ho chiesto il barile ragazzi Hai donato il golem? Ti danno 500 monete per donare Mi sembra anche troppo poco se devo essere sincero Allora tu adesso scusa Vuoi sempre usare la cronazione con qualcosa di strano? Tipo? Tipo? Quanto è il gigante? Scusa il gigante quant'è? Il gigante non è gigante è 7 Allora 20 carte rare Cioè cosa potrei duplicare? Io dovrei duplicare i 3 moschettieri Quindi 6 moschettieri E perché non li potenzi? Potenzia scusa Ecco La roba quando hai da potenziare? Non è vero? Si potenzia Sono quello che ti serve I 3 moschettieri adesso li usi giusto? Allora adesso Quindi adesso Abbiamo specchio Poi gli specchi Ok Mentre poi la colazione 800 moschettiere Proviamo ragazzi E se riesco Guarda che costano 9 Eh lo so Costano 9 è dura Costano 10 dopo No più che altro perché La colazione comunque Ti lucide subito Basta la scossa ad esempio Eh lo so Però proviamo ragazzi Proviamo Non si sa È vero anche la furia Io lo guardo qui adesso Furio I moschettieri Specchiati Clonati Ci vediamo se ci riesci Contro un livello 7 Oh Io direi che subito Ah tu usi sempre le carte piccole Perché così puoi liberare il deck subito No? Ma aspetta un attimo Io so Che lui adesso metti quello lì Ma adesso tu hai Mettere moschettieri No perché Ma no ma lascia i tre moschettieri Ti buttano giù il gigante In un secondo Per gli stronzi Mettili in fondo Esatto lì Esatto Lascia lì Lascia lì Perfetto Lascia lì Lascia lì Lascia lì Perfetto Attenzione la furia sui tre moschettieri Bamba Ah Merda Eh sono morti Però sono rimasti sempre più di tre Eh sì no Più che altro Perché avevano poco già Poca amici Comunque colto a mezza vita l'attore Con solo 18 di Elisir No Solo 18 9 più 3 è 12 Allora adesso cosa fai? Sempre così Cazze già Metti i gommi lancieri Fanno sempre un po' di donna Alla torre Fai il salsicce Salsicce Oh Oh Vedo che sbagliare il colo Cosa dai Rimetti tre moschettieri Appena pove Aspetta appena 10 li metto Con 10 No ma no Attenta che uno fa di qua Se no Attenta Merda Eh Cazzo Come gli specchi Sì gli smutto il giuratore centrale adesso Ah tu hai attaccato Determine la torre centrale Sì ma ti ricordo che lui adesso È vero Ha il risparlo specchio Sì però cazzo Hai voglia Di quelli 10 di Elisir Ma un po' di che ora Che arrivano qua le tue Le sue truppe Lì a voglia Ho andato Tu hai giuratore Semplice Semplicissimo Come direi Attaccalo di là scusa Perché sta fermo lì lui Cos'hai messo No Che inchiappettata ragazzi Eh certo con due moschettieri Guarda che la perdi eh Eh no Metti 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 È un problema Sì che è un problema Non devi perdere Babam Attenzione Cosa fai Non so Ho specchiato qualcosa Cos'è cronato Aspetta che furieggio Ah furieggi le torri Attenzione 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 Che sta per perdere No ce l'ha fatta Incredibile Adesso ascolta Metti i tre moschettieri Nell'angolo là Aspetta Attenzione C'è della strega Attenzione 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 No I tre moschettieri Vai buttali là in mezzo No Esatto lì Adesso si ingira Capiscono subito la torre E' tra di così Ok occhio Ah No Ah che sfighe Stai perso con il livello 7 Oh una corona al clan Hai dato ragazzi Tu Tu però adesso vai bene Cosa Tu vai bene per il clan Adesso Perché Tu adesso puoi fare tre corone Perché adesso vabbè a pezzo Però voglio dire Lasciamo stare Può fare tre corone Quando vuole contro il livello 7 Quindi tu puoi fare Corone a manetta per il clan Quindi Adoperati a fare corone In questo periodo Scusa Per la prima volta Rinnegan In arena bassa Ha un'utilità seria Quindi tu devi sfruttare Questa tua utilità Per fare corone al clan Adesso muore il gigante Quindi adesso aspetti I tre moschettieri Ok Ci ho messo uno Oppure da un'altra parte Ma non posso Non posso andare da un'altra parte Ma sei per campo successo una volta Perché tu sei stupido Ah ok Va bene In quel caso Ma sia Come di già Oh Attenzione Sei moschettieri Di cui tre clonati Svada ben bim bim Perché non gioca Furia Furia Quanto tempo ci sta Faggito quella torre Prima perso Adesso vince troppo facilmente Fammi provare a me Scusami Natema Perché se qui non giocavano Ma tanta Tu li trovi così Tu li trovi Che non giocano Scusa Non ho capito Tre corone al clan O due La data Sì No perché ho letto due Ho letto male Tu leggi sempre male Leggo cose io Tu leggi cose Oh guarda che bene Un livello 5 addirittura Bravo però A livello 5 Essere qui È normale Come no È normalissimo Quello di prima Era a livello 7 Vabbè ok Due a livello 6 E io sono a livello 9 Beh tu sei Molto più bravo di loro Ovviamente Però vedete Adesso ragazzi Non è una cosa stupida Scendere di arena Per fare il corone Più facilmente Come fare il corone Per il clan Ragazzi Ok coloniamo I tre stronzi E furieggiamoli No Guarda che roba Potentissimi ragazzi Vabbè Poveri Mi chiedete anche di culo Che ti stanno colpendo Il No Eh boh Vabbè Il draghetto Fa da una zona Quindi vabbè Ci sta Peccato Quindi Quindi Come fare Corone facilmente Per il clan Direi Soprattutto in questo periodo Soprattutto in questo periodo Perché servono le corone Visto che possiamo Poter Magari sei Magari sei Dopo Quelle che prendo io Vanno divise per 5 Perché Sono in rena 5 Eh no È vero È così Tre moschettieri Perfetto Tutti gli scheletrini Qua così Davanti Giusto per distrargli un attimino Dai E adesso li cloniamo Cosa dici tu no Li cloniamo Ok Ok clonati Tutti e tre Perfetto Che potenza Che potenza ragazzi Che potenza Che potenza Che potenza distruttiva Quale potenza distruttiva Oserei dire Scusi un attimo Più 29 Tre corone Quindi tu hai fatto Sei corone in Due minuti Se va bene Fighissimo ragazzi E più apriamo Dai apriamo Apriamo Te lo apro io ragazzi Allora oro Gemme E mirra Solo due Ma che sfiga Solo due Non li uso Queste non li usi Eh beh Questa la usi Ma se mi piace Ma sia tiro il missile Eh Lo posso clonare in volo No Non puoi clonare in volo Ma sei scemo È possibile Quindi ragazzi Se il video vi è piaciuto E adesso sapete un trucco Guardate il corone Oh Rinnegano il re delle corone Ecco che torno le corone reali Delle serie Esatto E quindi Speriamo di arrivare Fra sette giorni A dieci Però anche tu devi impegnarti Anche io mi impegno Apriremo questo ballo del clan Sperando di trovare Qualcosa di leggendario Magari se il ballo del clan Va diviso per tutti quanti Eh vabbè Ciao a tutti E al prossimo video Grazie a tutti